Siamo in ospedale, praticamente in una stanza antistante le sale operatorie dove mettono i pazienti in attesa di entrare in sala operatoria portano un lettino con una signora, la stanza è un po' buia, un penombra, subito dopo arriva un medico entra dentro e comincia a visitare questa signora, ma la visita era un po' intima si cominciano a strusciare, a baciare, lei si leva la vestaglia, lui si leva il camice, la mette sul lettino a un certo punto si rendono conto che deve essere osservati, dentro la stanza c'era un altro lettino con un'altra donna sopra allora il medico si riveste al volo, va dalla signora e fa signora guardi, non è come sembra, io non so lei che cosa ha visto però le posso spiegare, la signora deve essere operata ed era molto agitata e stavo cercando di calmarla ha capito? e lei gli fa sì sì, ho capito, è che io so la solita sfigata dice in che senso? è che pure io me dovevo operare ed ero agitata solo che il collega suo a me mi ha dato solo le gocce